Chi disse preferisco avere fortuna che talento per cercare l'essenza di una vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna di una vita. Terrorizza pensare che sei così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per una volta ti puoi andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre, allora si vince. Oppure no, allora si perde. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.